andiamo dov'è? andiamo! punta! andiamo! cosa restate con Augusta quest'anno che non vi avevo visto per niente oggi? io Augusta quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti e che d'è? che d'è? e come che d'è? concerti, biennale, musei, opere d'arte tu non mi puoi capire, sei troppo ignorante ma io non facci tua, se l'hai capito te lo posso capire pure io non è, tu non lo puoi capire ma perchè? ma perchè non ho capito manco io ma li portassimo la mia strana paura mi credevo che eri diventato l'oppianziano da te stai tranquillo totale che servono diventassimo tutti scienziati negasse qui ai mercati, chi che scarica più? comunque una volta ce l'ho provato proprio io ciao, siamo ritornati, siamo ritornati da Augusta che è re cappuccino? da qua, ci ha messo il mistrano volevano comprare per 18 milioni beh, erano trent'anni che c'era questa opera d'arte mica me ne raccordo io ma se danno 18 milioni a lei, a noi quanto mi devono dare? a te pure un miardo, solo come te ti asporto la te alle mortaggi su, a me sto collo che mi frega ma quest'altro anno le faccio pure io le vacanze intelligenti poi ce la spieghi Ariché, hai caricato tutto? si, ho fatto tutto andiamo a Gurmonta arrivederci a tutti fate tutti e vacanze intelligenti